Africa e innovazione è un connubio ancora poco raccontato, ma che potrebbe cambiare il futuro tecnologico e scientifico dell'umanità. Da qui l'idea di Be Entrepreneurs, associazione no profit nata dall'idea di due ragazzi italiani che dopo essere andati nel continente africano hanno deciso di portare in Europa alcune start up del continente. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Lorenzo D'Amelio, vicepresidente di Be Entrepreneurs. Be Entrepreneurs è un'associazione di promozione sociale che è nata dopo che abbiamo fatto un paio di anni di attività di esperienza nell'ist Africa. Abbiamo deciso di esplorare il panorama dell'innovazione dell'ist Africa in particolare, mettendo a disposizione le nostre competenze per supportare in particolare gli imprenditori a livello locale. Da queste esperienze che abbiamo fatto abbiamo poi deciso di darci una struttura, quindi un'associazione di promozione sociale che ci permette di essere organizzati ufficialmente come volontari riconosciuti e anche di strutturarci un po' meglio e dare continuità a quello che era un'esperienza unicamente estiva, quindi nel momento che eravamo un po' più libero, a poter dare una continuità un po' maggiore ai progetti che stiamo facendo e quindi per supportare le start up ugandesi, keniane, un po' più anche durante l'anno, magari partecipando anche a bandi. Tra i progetti principali c'è Startup Africa Road Trip, un'iniziativa no profit per supportare l'innovazione in paesi in via di sviluppo come Kenya, Ruanda, Uganda e Tanzania. Un'iniziativa che è nata nel 2017 su idea di Andrea Censoni e mia. Siamo andati a esplorare proprio sul campo in Uganda un ecosistema dell'innovazione che sapevamo stava crescendo e ci interessava molto scoprire l'innovazione in Uganda perché tendenzialmente non te l'aspetti. Siamo andati a Kampala che è la capitale dell'Uganda a conoscere e intervistare una serie di realtà del territorio. Da lì abbiamo anche organizzato nell'estate del 2017 una Tech Week, cioè una settimana di formazione dove noi e altri consulenti e esperti dell'innovazione che abbiamo coinvolto potevano diciamo fornire della formazione alle affrontate del territorio. Noi al contempo ci arricchiamo perché conoscevamo meglio un ecosistema che non avevamo avuto modo di scoprire prima. Da lì la parte finale invece si tratta di un momento di presentazione proprio a aziende o potenziali investitori, Business Angel, ed è una cosa che abbiamo fatto fin dalla prima esperienza. Ma quali tipologie di startup sono coinvolte in questo progetto? Noi abbiamo visto in particolare c'è un settore primario ad esempio che è ancora molto rilevante in termini proprio di economia in Uganda, in Kenya e quindi l'innovazione tecnologica che impata in quell'ambito è molto importante. Kimuli Fashionability si occupa ad esempio di creazione di capi di abbigliamento prodotti da materiali di recupero. Sono lavorati da persone disabili. Ha un doppio impatto sociale questa startup perché si occupa sia di impiegare persone che difficilmente proverebbero lavoro e al contempo si occupa di economia circolare e recupero dei vestiti. Marula Protein si occupano di trasformazione dei rifiuti organici della città in fertilizzante tramite un processo biologico che viene ottenuto grazie a delle larve di un insetto, Gorilla Conservation Coffee, un'impresa che si occupa di tutelare l'abita dei gorilla, che sono una specie via di estensione tra l'Uganda e il Ruanda. Supportano praticamente i produttori di caffè evitando che ci sia un sboscamento delle terre e incentivando l'educazione delle persone che lavorano a livello locale e condividono praticamente una parte dei proventi proprio per tutelare l'abitata naturale dei gorilla. Avviare un'iniziativa del genere significa anche scoprire un nuovo volto dell'Africa. Startup Africa Road Trip ha avuto almeno un paio di obiettivi. Contribuire all'ecosistema dell'innovazione africano portando le conoscenze di noi volontari come professionisti nel mondo dell'innovazione. Cercare anche appunto di divulgare queste storie. Alcune cose le conoscevamo prima di andare sul campo ma mano a mano abbiamo ottenuto sempre più informazioni. Ad esempio la popolazione del continente ha un'età media di 18 anni e quella ugandese ad esempio è di 15 anni a fronte del fatto che abbiamo un'età media di 45 anni in Italia. Un'età molto giovane e un utilizzo intensivo dello smartphone in quanto spesso non si possono permettere il desktop. Accelera di molto l'innovazione. L'ecosistema al mondo che cresce più rapidamente in questi ultimi anni. In Kenya siamo venuti a conoscenza di M-Pesa che è un'applicazione mobile. Il fatto è che lo utilizza più della modalità della popolazione. Quindi su certe cose abbiamo in qualche modo da imparare.